Ciao Rappi Lovers, nuovo video, nuova auto. Oggi sono qui per presentarvi Dacia Duster, un modello con motore da 1600 di cilindrata, 115 cavalli con alimentazione benzina. Diamo uno sguardo alla carrozzeria che è veramente in ottime condizioni. Si tratta di un veicolo usato, il precedente proprietario ha deciso di cambiarla per passare un veicolo più compatto per necessità lavorative. Inoltre quest'auto, come tutti i nostri veicoli, è garantita e certificata e ha superato il test dei 100 punti di controllo. Diamo uno sguardo al colore, si tratta di un grigio oscuro metallizzato. Cerchi in lega da 16 pollici in ottime condizioni, inoltre se ci avviciniamo e prendiamo la misurazione notiamo che anche il battistrada è perfetto, infatti una misurazione maggiore o uguale a 9 mm indica uno pneumatico in buono stato. Inoltre questa Duster è dotata di sensori di parcheggio posteriori comodissimi per parcheggiare un veicolo di queste dimensioni. Quanto consuma un veicolo di queste dimensioni? Beh, certamente è più adatto alle lunghe percorrenze, infatti in media consuma 8 litri per 100 km. Diamo uno sguardo al bagagliaio da 471 litri di questa Dacia Duster, certamente un bagagliaio molto capiente che vi permetterà di caricare a bordo tutto il necessario per le prossime partenze estive. Inoltre qualora lo spazio non vi dovesse bastare è sempre possibile abbattere i sedili posteriori e arrivare in questo modo a una capienza di 1485 litri. Diamo uno sguardo al lato posteriore, sono presenti gli attacchi Isofix su entrambi i sedili laterali posteriori. Diamo uno sguardo al lato anteriore del veicolo che è come nuovo. Abbiamo questi sedili in tessuto veramente morbidi ed avvolgenti. La plancia è molto spartana, presenta un vano porta oggetti quindi sarà semplicissima da pulire. Il volante ha tre razze in similpelle. Ora accendiamo il quadro e notiamo che il veicolo ha percorso 52.000 km. Occupiamoci ora del sistema di infotainment. Abbiamo questo schermo touch dal quale possiamo accedere alle varie funzioni di radio, media e telefono tramite connessione bluetooth. Abbiamo anche l'utilissimo navigatore satellitare con le mappe sempre aggiornate. Inoltre Dacia Duster è un veicolo super connesso, infatti abbiamo la presa AUX e la porta USB. Il clima è molto intuitivo, abbiamo le varie opzioni a seconda del tipo di funzione di cui abbiamo bisogno. Il cambio è manuale, si trova in una posizione rialzata, comodissima per guidare. Inoltre non appena inserisco la retromarcia si attivano i sensori di parcheggio che abbiamo visto precedentemente. E con questo amici abbiamo finito. Come avete visto si tratta di un veicolo perfetto per chi ha particolari esigenze di spazio. Ne abbiamo solo una a disposizione, quindi se siete interessati andate sul nostro sito rattiauto.com dove potrete bloccarla con soli 100 euro. Inoltre vi ricordo la possibilità del test drive e della consegna a domicilio con in igienizzazione. Come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale, ad attivare le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati. Al prossimo video, alla prossima auto!